Ciao a tutti, oggi rispondo ad un'altra domanda, una richiesta domanda che è stata fatta da Giuseppe Leggio, che mi chiedeva delucidazioni sulla pagina di stick control numero 12, pagina 12 dello stick control. Ok, importantissima domanda, perché la pagina 12 è sempre stata oggetto di un sacco di controversie, per dire la verità. Allora, innanzitutto, adesso andiamo a vedere questa pagina, un attimo che la prendo. Allora, c'è una cosa importantissima. Allora, se andate, allora io sto adesso guardando la versione più vecchia dello stick control, la versione più, la prima che uscì, insomma, quella che fu in ristampa per tanto tempo, perché qua c'è un appunto che è stato anche poi ripreso nella nuova versione, proprio scritto da Giorgio Aureston, nella pagina, esattamente questa è la pagina 3, mi sembra, scusate, vediamo. Sì, dovrebbe essere la pagina 3, insomma, l'introduzione del libro, sono le prime tre pagine, sono solo introduttive. Ci sono un sacco di parole scritte in inglese, eccetera, eccetera. Allora, Giorgio Aureston dice questa cosa qua. Il termine closed role, che è specificato e viene notato nella pagina 12 e anche dopo, è praticamente comunemente usato nell'orchestra e praticamente sarebbe una serie di rimbalzi naturali per ogni stile, per ogni movimento della bacchetta. Quindi ad ogni movimento corrisponde una serie di rimbalzi naturali, che praticamente invece di avere, cioè, instead of just one, praticamente invece di avere un unico suono, ha una serie di rimbalzi che poi vengono riprodotti da una specie di pressure, pressione addizionale, che viene applicata allo stick, come esattamente, to the stick size the roll is, praticamente, è un rullo pressato, per dirla tutta. Ecco, allora, questo closed role, scrive lui, non deve essere confuso con il tipo di rullo esagerato conosciuto come scratch roll, che è un roll più forte, che viene prodotto da buttare giù la bacchetta, in parole povere, proprio sulla pelle, proprio premendo sulla pelle con i muscoli, dice lui, con la tensione dei muscoli. Allora, praticamente, quindi questa è una cosa importantissima che quasi nessuno legge mai. Allora, la pagina 12, che adesso andiamo a vedere insieme, chiaramente non ve la posso far vedere per i diritti d'autore, ma voi se ce l'avete andatevela a cercare tranquillamente. Pagina 12, lui dice proprio questa cosa qua. A un certo punto, lui prende la pagina 12 e vi fa fare due colonne, ok? Cioè, scusatemi, pagina 12, eccola qua, eccola qua, eccoci qua. Allora, vi fa fare, praticamente, la differenza tra la pagina 12 e la pagina 11. Nella pagina 11 c'è scritto, se vi andate a vedere la pagina 11, c'è scritto, praticamente, al primo esercizio, ci sono delle quartine, ok? C'è, praticamente, la quartina, un, due, tre qua, e poi c'è scritto nove stroke open roll. Cosa vuol dire nove? Praticamente, è un rullo a nove, cioè, open roll. Lui lo considera open perché i colpi sono doppi colpi, praticamente, sono dei 32 esercizio. Quindi, nella pagina 11 c'è questa cosa qua, praticamente, il numero uno della pagina 11 è questo qua. Questi sono otto colpi, un, due, tre qua, un, due, tre qua, più uno, cioè nove in totale. Quindi, fatto veloce. È un rullo a nove, un rullo aperto, open. Se andiamo alla pagina 12, invece, succede questo. Lui lo chiama nove stroke closed roll. Cosa vuol dire questa cosa qua? Come lui, come stesso George Lunderson dice all'inizio della prefazione, il closed roll è da interpretare come un rullo pressato. Il rullo pressato, ragazzi, è una cosa che deriva dall'orchestra, come specifica pure lui. È un rullo molto leggero che si sviluppa in questo modo. Si deve fare, praticamente, guardate l'esercizio adesso, numero uno, pagina 12. Voi avete la quartina iniziale, ok? Siamo in tempo tagliato, ricordatevi. Quindi, un, due, tre, quattro, e poi ci sono questi quattro colpi di destra, sinistra e destra. Ognuno di questi colpi, cioè voi, praticamente, non dovete variare i movimenti. Quindi, la prima parte è un, due, tre, quattro, la seconda è un, due, tre, quattro. Cioè, ad ogni colpo corrisponde un rullo pressato, si chiama, che è tipico dell'orchestra. Cioè, non cambiano i movimenti. Guardate un pochino. Un, due, tre, quattro. 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 Vedete che... E questo è... Allora, la spiegazione è molto più lunga, però, questo è un rullo chiuso. Va bene? Quindi, open roll e quando voi fate... un, due, tre, quattro, tititata, tititata. Praticamente, il movimento nel rullo aperto è uguale, solo che noi facciamo due rimbalzi a mano, no? Guardate. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Si creano dei doppi colpi, praticamente, no? E quindi, quando io vado a fare un colpo, come se fossero dei didol. Quindi, l'open roll è quando il movimento non cambia, ma generiamo doppi colpi. Il close roll è il movimento non cambia, ma generiamo rullimi multipli, che vengono fatti, proprio come spiega Giorgio L'Orestone, da una pressione, ok, del dito. Questo si trasforma nel famosissimo rullo pressato orchestrale, ok, che io ho studiato nella classe di percussioni, quando mi sono diplomato. Il rullo proprio tipico dell'orchestra è questo qua, che viene, si studia proprio facendo la pagina 12, perché nella pagina 12 verrebbe così. I movimenti sono sempre uguali, vedete? Sempre uguali. Se adesso accellano, guardate che succede. se faccio un rullo aperto, invece, appunto, l'open roll, guardate che funziona così, praticamente. Allora, se non ci avete ancora beccato, cosa intendo dire con i movimenti, la questione è che il movimento del braccio è sempre lo stesso, guardate, se io faccio colpi singoli, o open roll, o cross and roll, il braccio è sempre uguale. Ora, focalizzatevi sul mio braccio, guardate come non cambia mai il movimento, ma io quello che cambio è o faccio un colpo singolo, o faccio doppio colpo con un movimento di braccio, o faccio rulli multipli, ok, rimbalzi multipli. Guardate un pochino. Ok, una spiegazione molto veloce per un argomento molto, molto lungo, perché il rullo prestato si studia in questo modo, però spero di avervi fatto capire cosa intendeva dire Giorgio L'Orestone, perché questa è una cosa della quale si discute da secoli e secoli. Lo dice Giorgio L'Orestone all'inizio della terza pagina, dice semplicemente questo, open roll è una cosa, close and roll è un'altra. Sono praticamente due forme di rulli, ok? Il close and roll è un rullo pressato, tipico dell'orchestra, va bene? Farò magari un video un pochino più approfondito su questa cosa. Ciao!